Scusi, sono la nuova specializzanda di medicina interna. Sai dove posso trovare il dottor Romero? Dottorino, tanto carino. Quello argentino, quando lo vede lo riconosce. Ciao, io sono la nuova specializzanda. Tu sei Carlo? Ah. Non fare finta di non saperlo. La dottoressa Pieri prenderà solamente uno specializzando per il gruppo di ricerca. Ed è un anno questo qua. Quello uno sarò io. Ma no, non sei indeficiente. Sei solo innamorato della persona sbagliata. E però... Ho conosciuto l'amore vero. Quando è morto Emilio, mi sono detta... Morto l'amore della mia vita, però almeno un lavoro da mare. Ma non è così, mi sbagliavo. È cresciuto poco a poco. Quasi senza accorgermi. Giorno dopo giorno, ora dopo ora. Adesso io non ci riesco più a tenermi tutto dentro. Io mi sono innamorato di te. E adesso Carlo... E poi il pensiero di stare sei mesi lontano da lui mi fa soffrire. E questo vuol dire che mi piace. Eccolo, vede? Sto pensando a lui. Hold on, I still need you. Hold on, I still need you. And I still need you. 1-2-2-3-5-4-3-5-2-4-3-5-4-4-5-4-6-4-4-5-5-4-4-5-5-5-4-5-5-3-6-6-6-6-6.